Bella a tutti raga, bentornati sul mio canale, eccoci con il solito appuntamento per quanto riguarda le sfide settimanali del Pass Battaglia della stagione 3 di Fortnite. Nel video di oggi amici andremo a vedere le sfide della settimana numero 5. Vi ricordo, per chi avesse comprato adesso il Pass Battaglia e volesse fare le sfide delle settimane passate, qui sotto in descrizione lascio il link delle sfide nascoste che si possono trovare all'interno della settimana numero 2, della settimana numero 3 e della settimana numero 4. Però come sempre, bando alle bande ciancia e ciancia, andiamo a vedere le sfide della settimana numero 5. Quindi su due piedi le sfide di questa settimana sono un pochino più semplici rispetto a quelle della settimana 4. Bisogna ovviamente come sempre cercare nei forzieri, bisogna infliggere i danni, questa volta con un piccone, bisogna eliminare i nemici con delle pistole ed eliminare i nemici a pinnacoli indipendenti. Le missioni forse sono un pochino più picciose, ecco, tra virgolette, sono le visite da diversi distributori di benzina che seguono la mappa del tesoro trovata negli armi anarchici. Ovviamente amici, i distributori di benzina non me li vado a far vedere, però è possibile trovarli a Pleasant Park, Salti Spring ed a Prod'Avventurato, quindi andate lì e li troverete appunto e farete subito subito la missione. Mentre per quanto riguarda la mappa del tesoro trovata negli armi anarchici, la mappa appunto per chi di voi la volesse trovare, si trova qui, come vi vado a far vedere, dentro questo fienile. Quindi questa mappa e questa volta mi sembra anche abbastanza semplice trovare, ecco la stella, ovviamente vedete il lama, non potete appunto non pensare a crocevierci a fame, quindi una volta andate lì, non atterrate un pochino prima perché se ci avete fatto caso in alto a destra sulla mappa c'era la busta che indicava il nord e quindi a nord andate a vedere il lama, quindi dovete atterrare un pochino prima per vedervi tutta la mappa di fronte. Quindi una volta atterrati andate appunto a diritto e troverete qui questa roccia, vi avvicinate come sempre e vi sponerà la stella. Quindi una volta presa o finita la partita o vi suicidate e andate appunto a vedere nelle sfide del past battaglia che almeno quella sfida l'avrete completata. Come sempre io spero che questo video vi sia stato utile, lasciate tanti mi piaci e tanti commenti per farmelo sapere, iscrivetevi al canale se non lo avete già fatto e condividete il video per aiutare la community. Come sempre amici io vi ringrazio della visione e ci vediamo al prossimo video. Bella!